12 domenica del tempo ordinario la liturgia viene introdotta da una prima lettura che parla del dramma del profeta geremia uomo che dovrà dire cose sgradevoli dovrà dire cose impopolari spesso la verità impopolare chi vive per la popolarità diventa normalmente un ipocrita certamente non ha niente di profetico è un rischio che abbiamo costantemente anche come cristiani di diventare gente che guarda un po troppo all'audience e un po poco alla verità alla fedeltà ecco per salvarci da questo rischio così grande che è un rischio di diventare moneta falsa di diventare gente che vive di cose molto effimere di vanagloria di opinione ecco noi dobbiamo lasciarci guidare fuori dalla schiavitù della paura infatti gesù apre il vangelo di questa domenica con non abbiate paura degli uomini questa è la chiave avere paura degli uomini ci trasforma in ipocriti in persone che vivono una vita doppia lo svelato e il recondito quello che si vede e quello che c'è dentro perché di fatto il cristianesimo ha una sua dimensione recondita c'è una dimensione tipica della vita la vita parte segreta e poi diventa manifesta la fecondazione è una cosa intima e poi diventa una carne che vive e così anche il cristianesimo c'è una parola che entra nel cuore che viene detta nella stanza interna che viene detta alla parte più intima del cuore e poi piano piano deve diventare visibilità se non diventa visibilità non è reale se non c'è concretizzazione vuol dire che non c'è stata neanche fecondazione perché bisogna dire queste cose perché in mezzo a questo processo fra il momento della fecondazione del cuore il momento in cui un cuore diceva una parola bella che gli dà voglia di seguire Gesù Cristo che gli dà voglia di vivere secondo la bellezza secondo Dio secondo l'amore e il momento in cui questo diventa atto c'è un tragitto da fare e questo tragitto si può interrompere si può frapporre la paura di deludere il prossimo la paura di deludere il prossimo è uno dei vettori più forti per la bruttezza umana quella cosa per cui uno per non deludere il prossimo come per esempio compare nella storia dell'uccisione del profeta del nuovo testamento Giovanni Battista che viene ucciso da un re che non vuole deludere i commensali malgrado abbia ricevuto un'indicazione che a lui non piace che lo amareggia che lo rattrista lui taglierà la testa a un profeta per non deludere un consesso di mangioni che stanno lì banchettando ecco per fare i compagnoni nella vita noi possiamo diventare l'ombra di noi stessi per far contenti per una stupidaggine per una risata noi possiamo diventare dei pagliacci dei grandi pagliacci che vivono una vita di serie b cosa bisogna fare bisogna smettere di temere coloro che uccidono il corpo perché uccidere il corpo uccidere l'anima cosa è più importante questa è la dicotomia grande in cui questo vangelo ci mette e da cui dobbiamo uscire come se il corpo sia più importante dell'anima che ci faccio del corpo se ho perso la mia anima se guadagno il mondo intero addirittura e ho perso la mia anima non mi serve a niente dirà Gesù Cristo se un corpo ha perso la sua anima vive una vita stupida inutile inconsistente ecco la chiamata di questa domenica è a vivere integralmente fino in fondo autenticamente e a prenderci cura della nostra anima la cosa più importante difendere la nostra anima difendere il nostro cuore difendere la nostra verità il nostro centro ci sono persone che vivono con una cura ossessiva del proprio corpo e con una trasandatezza radicale del proprio cuore c'è gente che per un piacere del corpo farebbe cose pazzesche e non conosce il piacere dell'anima il piacere dell'anima è molto più intenso molto più profondo e anche molto più duraturo del piacere del corpo dobbiamo capire come potremo noi essere così saggi così anche efficaci ben organizzati per poter vivere questa sintonia fra il corpo e l'anima dobbiamo ricordare chi siamo al cospetto di dio riconoscere il padre perché lui riconosca noi è curioso questa generazione ha una forte ansia da riconoscimento qui si rovescia il problema per essere riconosciuti riconoscere riconoscere il padre è un atto in cui uno riconosce dio come padre e straordinariamente diventa libero è veramente riconosciuto dal padre celeste dobbiamo ricordare francesco d'assisi che riconosce il padre davanti al suo padre e diventa francesco d'assisi diventa quel dono di grazia enorme per la storia della chiesa e per tutta l'umanità è così che si diventa dono per l'umanità riconoscendo il padre riconoscendo l'unico padre vero per fare questo atto normalmente dobbiamo disobbedire alla nostra paura per il corpo e obbedire alla nostra cura per l'anima questo è il tipo di lavorio in cui siamo introdotti da questo vangelo in questa domenica celebriamo un'alleanza con il signore su questo punto sul essere gente che cura il proprio cuore e secondariamente conseguentemente muove il corpo e gestisce il corpo partendo dal cuore non partendo dal corpo per arrivare all'anima ma partendo dall'anima per arrivare al corpo questa è saggezza questa è vita bella e vera